Prima finale a Liverno, com'è andata? Non tanto bene, abbiamo perso 3-2 la prima partita della serie, risultato stretto a testimonianza del fatto che la partita si è giocata punto a punto da entrambe le formazioni. Hanno pagato in questo caso a nostro sfavore alcuni errori, però il baseball è fatto di errori che ci possono sempre stare. In una partita tirata così fino all'ultimo, anche un solo errore può essere determinante, come è successo appunto ieri. Può aver influito anche per certe caratteristiche, vista l'importanza della partita, una squadra molto giovane come la vostra, come quella dell'Arizzo? Esattamente sì, dobbiamo tenere appunto conto del fatto che gran parte del nostro roster è fatto da giocatori minorenni, che hanno 16, non hanno 18 anni, che si sono trovati alla prima occasione di giocare una partita importante come questa e probabilmente un po' l'inesperienza ha giocato a nostro sfavore. Comunque siamo fiduciosi nel proseguo della serie che si terrà adesso domenica prossima sul Diamantaretino. Noi saremo costretti a vincere tutte e due le partite per portare a casa il titolo, però confidiamo molto nell'impegno dei ragazzi perché è un obiettivo che sia la società che i nostri sponsor tengono assolutamente a raggiungere quest'anno.